Torna la Formula 1 a correre dopo due settimane di sosta, torna nel Gran Premio del Bahrain, circuito di Sakhir, versione tradizionale per questa settimana per quel Gran Premio che verrà ricordato non per l'ennesima vittoria di Hamilton ma per l'episodio capitato a Romain Grosjani. Inevitabilmente questo recent podcast si andrà a concentrare per la maggior parte soprattutto sull'incidente capitato al pilota francese della Haas, un recent podcast tra l'altro del giorno dopo perché sto registrando domenica sera considerato appunto che il GP è finito veramente più in là e per quello che è successo c'è stato uno stop di un'ora. Un Gran Premio che in partenza evidentemente ha regalato le fasi più concitate ed evidentemente in queste situazioni di gruppo soprattutto a centro classifica e anche nelle retrovie si innescano delle carambole che di solito sono molto spettacolari. Qui abbiamo rischiato qualcosa di più per fortuna come vedete anche dall'immagine di copertina di questo video il pilota sta bene ma quello che è successo è stato veramente un grande spavento e onestamente io ho avuto i brividi sono rimasto molto scioccato avendolo visto in diretta per quello che è successo in questo caso al povero Romain Grosjani. Un incidente che ha comunque visto il pilota illeso ma la dinamica è stata veramente veramente devastante e drammatica per certi punti di vista e andiamolo a vedere per immagini nel racing podcast di oggi. Si parte appunto dal Giro 1 una partenza che per quanto riguarda in questo caso il pilota di testa non conta, conta molto per quello che succede là dietro. Qui vedete che succede appunto il finimondo perché già c'è un contatto che vede coinvolta una McLaren ma ancora più indietro c'è un duello tra Kiat e Grosjani. Grosjani uscendo dalla prima chicane imboccandosi nel rettilineo del circuito del Bahrain perde la macchina e come vedete la Haas che si va a schiantare verso le barriere è la sua. L'impatto sarà veramente devastante e come ho detto prima drammatico perché tutto quello che ne consegue è un principio di incendio incredibile e pazzesco. Qui vedete la dinamica finale dell'incidente con la macchina che a un certo punto trepassa addirittura le barriere di protezione e l'altra metà rimane al di qua. Infatti c'è stata tanta preoccupazione per Romain Grosjani, tanta attesa e apprezzione per quello che potevano essere le sue condizioni. Io temevo il peggio nonostante la sicurezza di queste macchine e per fortuna il peggio è passato dopo qualche secondo perché come vedete appunto da questa immagine nel incendio più totale nella bandiera rossa più totale perché nel frattempo la gara è stata fermata Grosjani in condizioni precarie riesce preso evidentemente dall'adrenalina a sfuggire al principio di incendio a uscirne vivo senza farsi veramente niente. Onestamente ragazzi questo è un miracolo e onestamente da appassionato non si poteva fare altro che rimanere con il fiato sul collo e sperare che a Grosjani non fosse successo niente. Per fortuna non è successo niente, parliamo di un incidente spettacolare nel senso più brutto del termine. Ovviamente il pilota è stato portato all'ospedale di Manama per accertamenti e in ogni caso è veramente incredibile e bellissimo onestamente vederlo in piedi ancora vivo. Sono incidenti che purtroppo fanno capire onestamente quanto questo sport sia per veri eroi e al di là delle battute che posso fare anche io su questi Racing Podcast che chiunque arrivi a gareggiare a questi alti livelli è considerato un eroe e onestamente anche Grosjani per quanto non sia nella stagione migliore della carriera lo è perché come tutti i piloti dal primo al ventesimo di Formula 1 e delle altre categorie mettono a rischio la propria vita correndo a 300 euro all'ora per lo sport che amano, per comunque uno sport pericoloso, il mortosport effettivamente è pericoloso, è uno sport che comunque ha ancora una volta dimostrato che ci sono delle vetture strassicure e siamo veramente contenti e io sono veramente contento di parlare di Grosjani ancora vivo illeso soprattutto perché qualche anno fa con delle vetture sicuramente diverse un incidente di questo tipo avrebbe sicuramente causato la morte del pilota coinvolto Grosjani ripete è stato portato in ospedale in un centro medico di Manama e vedremo quale sarà la diagnosi alcuni piloti li abbiamo visti già rientrare la settimana successiva alle corse da un certo punto di vista sarebbe carino e molto bello rivederlo immediatamente nel Gran Premio di settimana prossima che scorrerà sempre qui in Bahrain dall'altra parte immagino che comunque seriamente per le ustioni riportate e per comunque le complicazioni probabilmente gli verrà sconsigliato vedremo quella di Ranney May, ci vedremo chi sarà eventualmente il sostituto se ci sarà nella prossima competizione o se tornerà il pilota francese ma l'incidente veramente è qualcosa di drammatico soprattutto vedendo queste immagini che veramente hanno fatto il giro del mondo e veramente tanta tanta paura ha veramente coinvolto tutti gli appassionati, i piloti, gli addetti ai lavori e lo stesso ovviamente Grosjani che come ripeto per fortuna è uscito indenne da questo incidente pauroso che in altre condizioni avrebbe veramente causato probabilmente la dipartita del pilota francese il pilota francese che appunto come vediamo qui ha avuto il contatto con Kiat qui in realtà è colpevole il pilota russo a mio modesto parere ma conta veramente poco l'importante è appunto che Grosjani sia rimasto illeso e sia appunto quantomeno ancora in questo mondo mettiamola così e direi che ho detto abbastanza su questo incidente sarebbe carino rivederlo ancora in pista vedremo cosa diranno i medici in ogni caso la vittoria della gara del Bahrain è di Grosjani e non di Hamilton che ha vinto per l'ennesima volta una gara dominata onestamente tutto il resto di cui parlerò della seconda parte del Racing Podcast è onestamente in secondo piano c'è stata appunto vi dicevo una gara oltre questo incidente pauroso di Grosjani gara che in realtà non ha detto pressoché niente l'episodio di Grosjani è veramente l'highlight di questo Gran Premio per il resto Hamilton conquista l'ennesima vittoria della carriera per l'ennesima volta in carriera suona God Save the Queen si doveva prospettare in realtà un duello Mercedes contro la Red Bull duello che in realtà c'è stato ma in parte perché come al solito Bottas circa la partenza della competizione le Red Bull finiscono entrambe sul podio con Verstappen secondo e Alexander Albon incredibilmente terzo Albon in realtà sfrutta un errore di Sergio Perez più che un errore in realtà un problema tecnico una rottura del motore costringe il pilota messicano a uscire dalla gara veramente a tragire dalla fine poteva essere l'ennesimo podio per un altro licenziato di questa Formula 1 e invece parliamo di un secondo podio tailandese in Formula 1 con Alexander Albon che probabilmente con questo podio potrebbe legittimare un posto in Formula 1 l'anno prossimo sempre Red Bull chi lo sa fatto sta che appunto la gara passa alla storia per l'incidente di Grosjean per l'ennesimo filotto di vittoria di Hamilton che appunto ne vince 5 in fila ma come sempre sappiamo corre da solo la delusione del giorno è ancora una volta Valtteri Bottas che canna la partenza e finisce ottavo con la stessa macchina del pilota che ha vinto il podio l'abbiamo detto lo completano le due Red Bull con Verstappen che pian piano si avvicina al secondo posto del Mondiale e onestamente lo meriterebbe perché Bottas è due gare che non ci sta capendo veramente da un accidente e sta facendo figure abbastanza orrende con la stessa macchina pluricampione del mondo costruttori gli altri piazzamenti è un'ottima McLaren quella che raccontiamo oggi e io da tifoso sono veramente molto contento con Landone Norris quarto Carlos Sainz quinto sesta posizione per Pierre Gasly con l'Alfa Tauri quindi Honda fa una ottima prestazione di costruttori perché ne piazza 3 facilmente nei 10 settima posizione per Daniel Ricciardo con la Renault ottava posizione per Valtteri Bottas abbiamo detto prima nona posizione per Esteban Ocon con la seconda Renault e chiude la top 10 Charles Leclerc che appunto sfrutta a suo modo l'incidente di Perez per ammarcare almeno un punto in una gara che la Ferrari appunto ha visto probabilmente dalla panchina o da un'altra parte perché si sapeva che in una pista di motore la scuderia di Maranella avrebbe fatto oltremodo fatica a differenza di quella dell'anno scorso dove a un momento Leclerc la vinceva e Vettel fece un errore girandosi in un duello contro Hamilton l'apolito di Vettel per quanto riguarda l'altra Ferrari torna sulla terra tredicesima posizione per il pilota tedesco apparente ci sono Antonio Giovinazzi una prestazione abbastanza in linea con gli altri motorizzati Ferrari sedicesima posizione per lui è un gran premio che appunto lascia il tempo che trova per vari motivi nel senso che il mondiale è stato già assegnato a Hamilton nella scorsa gara di Turchia l'unico interesse in realtà di questo mondiale è vedere se Hamilton arriverà a 100 pole e se ne fa due nelle prossime due gare ci potrebbe riuscire inevitabilmente l'incidente a Romain Grosjean ha rubato la scena e per fortuna parliamo appunto come dicevo di un pilota illeso segno che il pilota è stato veramente un miracolato e questo secondo me è veramente un miracolo nel senso più letterale del termine ma è anche segno che queste vetture di Formula 1 all'avanguardia con la tecnologia evidentemente sono tanto sicure per garantire che il pilota possa in futuro raccontare di questo incidente pauroso peccato appunto perché Grosjean è già un pilota a fine carriera e abbandonare così la carriera con questo incidente pauroso evidentemente non dovrebbe essere un buon viattico peraltro Grosjean per me senza se e senza ma è il vincitore di questo Gran Premio e quindi nella mia testa suona la Marsigliese per lui ed è inevitabilmente il driver del giorno per tutti i motivi che ho detto prima e appunto perché è un miracolato da questo incidente per fortuna spettacolare ma veramente poteva essere molto molto grave speriamo che il prossimo Gran Premio è quello di Sakir che si correrà sempre in Bahrain ma sulla versione strana del circuito degli Emirati quindi col circuito esterno che dovrebbe durare meno di un minuto a giro come gara ci possa essere quantomeno o il ritorno di Grosjean o comunque una gara un po' più spettacolare perché effettivamente al di là di quello oltre la rottura di Perez e oltre appunto l'incendente di Grosjean nonché è una strategia rivedibile da parte della Red Bull che ha fermato Verstappen più o meno quando voleva per provare a mettere in difficoltà Hamilton che avendo gomme una volta con le bianche una volta con le gialle ma non è servito assolutamente un accidente insomma non ha regalato niente di che possa appunto essere una cosa un po' più coinvolgente c'è stata anche la Formula 2 in realtà in questo weekend di Bahrain Formula 2 che è arrivata al penultimo atto campionato che non è ancora chiuso c'è ancora il duello tra Mick Schumacher e Callum Aylott Callum Aylott però va detto la butta via in gara 2 con un errore clamoroso in un attacco proprio su Schumacher Junior buttando fuori Ihan Daruvala e per quello il pilota inglese viene penalizzato e perde un'occasione per marcare più punti possibile in realtà Aylott ha guadagnato dei punti perché partiva con più di 20 punti di distacco adesso se ne sono soltanto 14 seppur i due contender non hanno regalato una vittoria in queste gare Aylott ha fatto comunque un buon podio in gara 1 in una gara vinta e dominata da Filippi Drugovic alla sua terza vittoria in Formula 2 per lui sono all'inazionale brasiliano Drugovic dimostra di avere una gran gestione di gomme perché con le gomme mobile fa addirittura metà gara e con le gomme dure gestisce e conquista una vittoria strameritata seconda posizione appunto per Aylott e terzo per quel Ihan Daruvala che in gara 2 verrà centrato dallo stesso Aylott in una diciamo battaglia con Schumacher appunto il pilota indiano nel lungo di curva 10 vanno a sbagliare sia Schumacher che Aylott Aylott però molto di più tocca Schumacher tocca Daruvala Aylott viene penetrati di drive-thru e Daruvala purtroppo finisce anticipatamente la corsa torna a vincere Robert Schwarzman in gara in Formula 2 che si riscatta dopo un periodo veramente nerissimo Schwarzman era partito alla grande poteva essere lui il favorito per vincere il titolo invece si deve accontentare di perdere questo titolo mondiale Formula 2 e vedremo se rimarrà in questa categoria l'anno prossimo il pilota russo per lui e per Nikita Mazepin che è l'altro russo competitivo di questa categoria che fa doppietta suona l'inno della federazione russa terza posizione per un altro pilota che ha fatto una grande bella stagione quest'anno ovvero il pilota elvetico lui Deletra il pilota del team Chayruz che con una grande gestione di gomme nel finale cambiandole anche con un pit stop riesce ad avere un passo di due secondi al giro più veloce di tutti e fa terzo parentesi sugli italiani o meglio sull'italiano Luca Ghiotto sfortunato in questa gara del Bahrain mantiene comunque la top 10 di questo campionato Formula 2 partiva dal fondo purtroppo il pilota Vincentino e non ha potuto fare una gara delle sue dodicesimo in gara 1 ritirato purtroppo in gara 2 la Formula 2 tornerà anche lei settimana prossima sempre sul circuito esterno del Sakir e lì assegneremo il titolo di questa categoria dunque inevitabilmente il racing pot di questa domenica partirà da quello fatemi sapere intanto che cosa ne pensate di questa gara della Formula 2 e anche della Formula 1 in particolare sull'incidente drammatico di Grosjean il saluto da parte di Matteo Torgert ci vediamo a un prossimo video di Grosjean di Grosjean